Vede da lì, come voi del Partito Democratico pensate che possa vivere domani un partito senza soldi, con pochissimi soldi. Ma questa deve essere. Dobbiamo trovare una soluzione insieme. C'è da mantenere in vita i circoli, c'è da aiutarli. È ovvio, ma non c'è da aiutare delle carriere politiche, delle fondazioni che non si sa perché ci sono. C'è da fare una scrematura delle stese dei partiti per dire ecco il partito snello, pulito, fatto di merito e non di raccomandazioni. Ecco quello che noi vogliamo. Allora io credo che noi in questa nostra richiesta dobbiamo partire proprio da qui. Come può essere questo partito a cui noi tutti vorremmo poter un giorno forse dare un voto oppure non darlo scegliendo qualche di un altro, ma certamente non con questa preoccupazione a scillo di una roba che non si sa che cos'è perché ancora non è stata fatta.